Nel pensiero di Dino Gavina la produzione e l'arte devono necessariamente camminare insieme perché il mondo possa essere migliore. Tutte le relazioni che lui intreccia con architetti e artisti durante tutta la seconda metà del Novecento sono volte a questo scopo. L'arte visiva è un vero e proprio nutrimento che viene introdotto nella metodologia del design perché il progetto possa sempre essere ai massimi livelli. Credo che il vero tema della mostra sia la poesia che si esprime attraverso i colori, le forme, i volumi, i materiali, le tecnologie. Dallo spettatore coglierla e poi accoglierla. Come diceva Dino Gavina anche oggi come ogni giorno io immergo il mio cucchiaio nell'oceano.